Siamo in compagnia del presidente dell'Aido di Albino, Fausto Morotti. A quale chiediamo di fare un po' un bilancio dell'attività che l'associazione porta avanti e porterà avanti nel prossimo anno? Sì, allora diciamo che questo 2014 è stato un anno molto proficuo per la nostra associazione, nel senso che abbiamo avuto ancora parecchi iscritti e colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri quasi mille iscritti nel paese di Albino e abbiamo anche avuto parecchie offerte, a questa ragione vorrei proprio ringraziare le persone che durante le feste si sono prodigate per aiutarmi nella raccolta di questi fondi, fondi che andranno alla Casa Madre, cioè all'Aido provinciale Bergamo e che servono per mantenere viva questa associazione che dà l'opportunità a persone diciamo meno fortunate di avere una seconda vita. è per questo che colgo l'occasione per ringraziare tutti gli iscritti, ringraziare tutti i miei collaboratori che mi hanno aiutato per far sì che questo 2014 sia stato molto molto proficuo e auguro un buon 2015 a tutti gli iscritti e anche a tutte le persone che desiderano iscriversi o avere qualche informazione di presentarsi in Diamazzini al numero 61 ad Albino dove c'è la nostra sede. Morotti volevo chiedere quali iniziative intendete portare avanti nel corso di quest'anno? Allora abbiamo avuto l'opportunità nell'anno trascorso di allestire delle bancarelle dove abbiamo venduto e offerto, più che venduto abbiamo offerto diciamo dei piccoli gadget alla popolazione e contiamo anche per il 2015 di farci trovare per esempio durante la festa della mamma, durante la festa del papà contiamo di essere presenti con le nostre bancarelle durante queste feste dove offriremo magari dolci, offriremo delle bevande calde e chiederemo una piccola offerta. Tutto questo per noi fa sì di poter raccogliere dei fondi fondi che poi appunto vanno ad alimentare la nostra associazione. Morotti come risponde di fatto la cittadinanza? Devo dire che sono orgoglioso di questa cittadinanza perché sono stati molto attenti a questa causa e c'è da dire che si potrebbe fare di più però penso che questo aspetti anche a noi noi incaricati nel divulgare questo messaggio della donazione di organi che non sempre viene capito da tutti dobbiamo essere un po' più chiari e quando le persone ci chiedono riuscire a farci capire.